C'è una bellissima serocopia, un applauso, ma spettacolare, Olimpia Riva! Quasi tutti i concorrenti, quasi! Un applauso! Olimpia Riva, ovviamente sono gli unici, con il tasso autonico è rimasto un presso che è vero! Gli unici concorrenti, di tanto lunga, di salato, di rotto e di finalisti, ne troviamo ancora due mance per terminare la gara, per neccanare il vincitore del primo, Carrega Reis! Scusate Alpi, se giusto, non ha trovato la musica!